Finalmente ragazzi è uscita la nuova mappa di Warzone, la nuova Rebirth e devo dire che non è male, però fermi tutti, c'è un grosso problema che va a rovinare letteralmente il gameplay di questa mappa e la giocabilità in poche parole. Ora vi faccio vedere un po' di partite belle, faccio vedere anche la mia prima vittoria con abbastanza kill e capirete da soli dove sta il problema di questa mappa. Ad ogni modo a fine video ci troviamo per discuterne assieme e scambiarci un pochino le nostre opinioni. Buona visione! C'è stato tanto una sniper di in mezzo. Questa in acqua. Un po' qua come un caosario. Devi provare, è un po' cagare. Perché me ne mette nello zaino? Boh, e io devo capire ancora come funziona davvero eh. Non ci voglio credere. Casa tua. Volo. È diventato una luce che mi faccia adesso. Molto veloce. Mi sono dimenticato che non lo ho. Sì, vabbè. Contatto. Contatto. Contatto fallito. Tempo scaduto. Cerro. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, ma... Guarda, vai. Così, il gettone dei cosi. Oh, guarda qua. Poverero. Solo di pace. No, 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 ne ho uno qua, ne ho uno qua. Qua sopra. C'è un altro che sale. No, c'è niente qua. No, mi hanno fatto. Ragazzi, se volete, sono safe. Anche qua. Mi sparano, pronto. Voi vedete, lo capisci. Minch, mi ha dato un colpo con le pick up che non ha un senso. Senti, c'è... Le pick up dove... No, cazzo. Siamo mille, mille, mille. Minch, mi ha dato un po' di... Scrappolati. Ma cazzo. La zona ripiena. La zona ripiena. Raga, io vado qua dietro, mi prendo delle piastre allo shop. Ah, ma c'è gente. Un sacco di piastre. Compratene allo shop proprio. Non c'è nessuno. Potrei riprovare un attimo la difende. Adesso non ci scherzo. Ho avuto una... Oppure... Eh, c'è un... Ma mi sta in gioco. Ah, ma tanti a qua. Qua dietro, raga. Mi fai tanto un altro. No. Buon sottissimo in questo Ha vittato un sacco Ma quello dietro l'hai fatto? Eccolo qua Occhio perché anche a sinistra c'è la gente Andrè andrè vieni qua dietro se vuoi Andiamo in safe Sparando a sinistra andiamo avanti Ho fatto uno l'altro è sotto Come on bro come on Oh che bello Due fatti due fatti No un altro qua attaccato E riporti tu in arrivo Ho fatto uno Non cazzo l'ha messo in 5 Dove ho finito? Ho un altro qui Ma dove dietro? Ma sono tutti Cazzo E' uno qua sinistra E' un altro Mi falle vai Non ci sto capendo Cazzo sto vedendo Buono buono What? Ok Cazzo Eccola C'è una persona qua prima da me E noi siamo andati a fare il muro Sotto qua Cazzo è Ma dove c'è Gianni? Dove c'è Gianni? Cazzo Qua sotto qua sotto qua sotto Come faccio a pushare la gente senza piastre Eccolo l'altro Eccolo da dietro Vediamo se lo scopriamo da dietro Ed eccoci qui Ragazzuoli giunti a fine video Sicuramente il problema lo avete capito Qual è? Scrivilo adesso Qui sotto nei commenti Intanto parlo Così tu hai il tempo di scriverlo Vediamo Se hai indovinato Ti lascio un bel like Un cuoricino E ti rispondo Che sei un campione No Non c'entra niente Ragazzi Tanto vi rispondo sempre Ad ogni modo Ora avrete sicuramente scritto Quello che secondo voi è il problema E avete indovinato tutti Bravissimi Sono proprio le piastre Le piastre Raga Se ne sono scordate Hanno fatto un movimento super veloce Quando le si mettono Veramente Adoro Cioè si corre a una velocità Super elevata Il problema raga È che non ci sono le piastre E allora Cioè mi metti La possibilità di piastrarmi Correndo A 300 all'ora E non mi metti le piastre Cioè È proprio vero Che chi ha il pane Non ha i denti E chi ha i denti Non ha il pane Cioè in questo caso Raga calza pennello Comunque ragazzi Spero che sia un bug La mappa Sembra molto carina Ci sta tutto quanto Adesso vabbè Ovviamente In live Scopriremo un pochino Altri difetti Altri pro Altri pregi Tutto quanto Quindi ragazzi Invito a passare In descrizione Dai link A venire a seguire in live Ci divertiremo sicuramente Vi chiedo di lasciare un like Un commentino Per supportare il canale Grazie mille a tutti quanti Grazie mille se lo farai E noi ci ribecchiamo In un prossimo video Bella raga